Dunque, Branco, tre prove portate a termine nel primo giorno di questa Europe Cup Madges 20 a Venezia, condizioni comunque oggi impegnative, insomma era capitato raramente di vedere i Madges 20 camminare così nel corso della stagione? Sì, diciamo che le condizioni mettero erano abbastanza favorevoli, abbiamo fatto tre belle regate, le condizioni erano belle, diciamo da 10 a 6 nodi, solo l'ultima un po' in calo, ma tutto il resto molto bello, agguerito. E tra l'altro, insomma, Regini è lì in vetta della classifica? Sì, abbiamo fatto oggi belle regate, tre belle partenze, anzi una un po' meno, abbiamo avuto un incidente con un'altra barca, ma molto contenti. Infatti ti ho appena detto, ti devo intervistare perché sei l'uomo del giorno, mi hai detto ma sono anche quello che si è arrabbiato di più, cosa è successo esattamente? No, abbiamo perso tre punti per strada veramente per le sciocchezze, banalità, c'è robe che non si dovrebbero, c'è manovre in arrivo, queste robe qua che veramente le abbiamo sbagliate e mi sono un po', diciamo, leggermente, come dire, ho alzato un po' la voce. C'è una flotta piuttosto nutrita qui a Venezia, c'è stato qualcuno in questa prima giornata che non ti aspettavi così veloce sull'acqua? Ma no, diciamo che le barche ormai ci conosciamo e il valore dei velisti a bordo comincia a essere notevole ed è notevole, è sempre difficile battere gli avversari perché qua sono i tattici di grande spessore e tutti comunque hanno fatto l'Audi Cup, perciò sono almeno un terzo di barchi che veramente ti possono dare veramente fastidio, cioè vuol dire abbastanza che possono vincere, ecco. Grazie mille. Grazie a voi.